Presidente Di Pangrazio, oggi a Pescara per questa iniziativa la Regione incontra il territorio, un'iniziativa fortemente voluta anche dalla Presidenza della Regione, dalla Presidenza del Consiglio, perché la politica deve essere soprattutto vicina al cittadino. Sì, non solo deve essere vicina, ma soprattutto deve ristabilire, riannodare quel rapporto di fiducia, ma soprattutto permettere a tanti cittadini, a quelli che volessero, incontrare i loro rappresentanti istituzionali senza spostarsi qua e là o sull'Aquila o nel caso laddove questi risiedono. Certo, deve lavorare, deve fare buone leggi, deve trovare finanziamenti, deve programmare, deve progettare, realizzare e migliorare la qualità della vita di tutti quanti i cittadini della nostra Regione. State incontrando favore in questa iniziativa da parte dei cittadini? L'altra volta all'Aquila ho parlato con una quindicina di persone che mi ponevano alcune questioni, chi voleva essere informato, chi chiedeva nello specifico a modo di interrogazione, è giusto che gli vada dato risposta, ma c'è soprattutto una preoccupazione da parte del cittadino che ci chiede di insistere sul percorso, di innalzare il livello occupazionale della nostra Regione. Addirittura c'è anche chi viene e comincia a fare dei complimenti, a dire che gli stiamo restituendo quel minimo di fiducia, non solo nel rapporto tra istituzione e cittadino, ma quel minimo di fiducia, di credibilità, perché a cose dette seguono subito azioni e quindi le cose vengono fatte. L'iniziativa di feedback intrapresa dalla Regione Abruzzo non si è svolta soltanto a Pescara. A Chieti, infatti, il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, assieme ad alcuni rappresentanti della sua Giunta, ha voluto incontrare cittadini e associazioni di categorie e stakeholders in una serie di incontri volti a capire quali sono le necessità del territorio.